Ciao da lunadvidlab.it, benvenuti ad una nuova lezione di storia dell'arte greca. Oggi vediamo la nascita degli ordini architettonici nell'architettura dei templi. La scorsa volta abbiamo parlato della nascita delle poleis, processo che giunge a maturazione durante il VI secolo a.C. ed è proprio nella prima metà del VI secolo che nascono questi veri e propri stili, o ordini architettonici, accompagnati dall'uso della pietra che va a sostituire il legno. Nasce l'ordine dorico, caratterizzato da proporzioni massicce, in cui l'edificio è concepito come un volume pieno e che inizialmente risulta di proporzioni forti e pesanti. Poi l'ordine ionico, più agile, vivace e ricco ma meno unitario. Solo molto più tardi si aggiungerà il terzo ordine, quello corinzio, molto più complesso ed elaborato nelle forme. Cominciamo a vedere l'ordine dorico. Il tempio dorico poggia su un imponente basamento a più gradini, di cui quello superiore, chiamato stilobate, funge da base per le colonne. Il tempio dorico è periptero, cioè circondato da un colonnato continuo, che prende il nome di peristasi. Le colonne circondano la cella che è all'interno. Come sono fatte queste colonne? Sono realizzate con blocchi di pietra accuratamente sovrapposti, chiamati rocchi, e presentano da 16 a 20 scanalature a spigolo vivo. Il loro diametro decresce più o meno vistosamente dalla base alla sommità, perciò si dice che sono rastremate. In più, a circa un terzo dell'altezza c'è un rigonfiamento chiamato entasis, che varia secondo l'epoca e sembra simulare il cedimento elastico della pietra sotto il peso delle strutture di sostegno del tetto, cioè la trabbiazione. L'entasis migliora la percezione ottica. La colonna risponde ad un preciso rapporto diametro-altezza. Il capitello è costituito da un elemento curvilineo chiamato echino e da un altro elemento a parallelepipedo chiamato abbaco. La funzione di questi due elementi è quella di raccordare il cilindro della colonna al rettilineo della trabbiazione. Della trabbiazione fa parte l'architrave, che poggia sui capitelli e sul quale grava il peso della copertura. L'architrave è costituito da una serie di blocchi di pietra rettangolari, tagliati in modo che i giunti cadano esattamente sull'asse centrale delle colonne. Sopra l'architrave c'è l'altro elemento della trabbiazione, che è il freggio, costituito da un'alternanza ritmica di lastre scanalate, chiamate triglifi, e di pannelli dipinti o scolpiti, chiamati metope. Sopra la trabbiazione, sui lati minori del tempio, si aprono due grandi spazi triangolari, chiamati frontoni o anche timpani, incorniciati sotto da una cornice modanata a gettante che veniva dipinta a motivi poligromi, chiamata geison, e sopra, sui lati obliqui, da un'altra cornice che ne rafforza il profilo, chiamata sima. Nello spazio vuoto del frontone, trova posta, a partire dal VI secolo a.C., una ricca decorazione figurata, scolpita a rilievo oppure addirittura a tutto tondo, e fra poco vedremo un paio di esempi. Dalla cornice sopra il freggio, ma anche sopra l'architrave in corrispondenza di ciascun triglifo, spuntano sottili lastre ornate da pendagli cilindrici, chiamati gocce. Non si sa bene che cosa siano, cioè se avessero o meno una funzione particolare. Per quel che riguarda l'interno, il tempio prevedeva una cella di forma rettangolare, con le pareti dei lati lunghi che si protendevano a formare due ante, fra le quali erano poste due colonne di sostegno, chiamate colonne in antis, che creavano un vestibolo, cioè anticipavano il pronao, l'ingresso della cella. Dalla parte opposta, un secondo prolungamento chiamato opistodomo aveva una funzione decorativa e lo scopo di rendere simmetrica la struttura. All'interno la cella normalmente era divisa in tre navate da un doppio colonnato. In fondo alla navata centrale era posta la statua di culto, quindi dall'ingresso attraverso questo colonnato si creava un asse visivo che conduceva la statua. In altri casi invece c'era un unico colonnato centrale che divideva la cella in due e tre colonne in antis. Però il colonnato centrale imponeva di decentrare la statua di culto, per cui questa soluzione fu presto abbandonata. Tra la cella e la peristasi vi è tutto intorno un deambulatorio, cioè uno spazio accessibile. Il più antico esempio di ordine d'orico è il tempio di Era d'Olimpia, nel Peloponneso, dove ogni quattro anni si celebravano i più importanti agoni sacri del mondo greco. Il tempio sorsa all'interno del santuario dedicato a Zeus, importantissimo. Era, infatti, in quanto consorte di Zeus, divenne la comproprietaria del santuario, e fu molto venerata nel Peloponneso. Il tempio poggia su un basamento di soli due gradini. La pianta periptera ha un impianto di 6x16 colonne e la lunghezza totale di circa 40 metri. Le colonne d'oriche presentano una lieve entasis a circa un terzo dell'altezza. Hanno un aspetto poroso e non compatto a causa della tipologia di pietra calcarea di cui sono fatte. Originariamente erano coperte da un sottile strato di stucco, dipinta a colori vivaci. La particolarità è che le colonne inizialmente erano di legno e furono sostituite con quelle di pietra in varie epoche. Ecco perché i fusti hanno diametri variabili da 1 m a 1,28 m e la datazione dei capitelli oscilla tra il VI secolo a.C. e l'epoca romana. La trabbiazione e la copertura, oggi perdute, dovevano essere ancora in legno e terracotta, come negli edifici più antichi, in quanto l'ampiezza insolita degli intercolumni, cioè lo spazio tra una colonna e l'altra, è inadatta a sostenere il peso di una trabbiazione in pietra. Eccone un altro. Questo è il tempio di Apollo a Corinto, che risale al 540 a.C. e fu innalzato su una piattaforma rocciosa. Rappresenta l'espressione più matura dell'ordine dorico del VI secolo e le sperimentazioni tecniche elaborate per far sì che ci sia una percezione ottica più armonica, evitando gli effetti deformanti nella visione dell'edificio, per esempio causati dalla luce o dalla prospettiva. Quindi, oltre all'uso dell'entasis, si acuiscono le curvature dello stilopate e dell'architrave. Si riduce la distanza tra le colonne, di cui si ingrandiscono quelle angolari, e infine si posizionano queste colonne con una lieve inclinazione verso il centro dell'edificio, ottenendo una riduzione delle fughe prospettiche e conferendo più leggerezza al tutto. Due parole sul di Apollo. Era figlio di Zeus e Leto, o Latona, come la chiamavano i romani, ed era praticamente il dio per eccellenza, perché possedeva moltissimi poteri. Era un dio che puniva, infatti veniva spesso rappresentato con arche e frecce, e tutte le morti improvvise erano attribuite alle sue frecce. Nello stesso tempo, però, era un dio che poteva aiutare e allontanare il male, se opportunamente implorato e provviziato. Proteggeva anche le grigi e il bestiame in generale, ed anche la fondazione delle città e le loro costituzioni e istituzioni civili. Era un dio profetico, ed esercitava questo potere nelle varie sedi dei suoi oracoli, primo fra tutti quello di Delphi. È conosciuto senz'altro come dio del sole, anche se questa identificazione nasce tardi. Infatti, in Omero, Apollo ed Elio, cioè il sole, sono perfettamente distinti. Infine, il dio del canto e della musica, ed è per questo in strettissima relazione con le muse, cioè è guida e maestro del loro coro. Una tradizione tarda attribuiva ad Apollo l'invenzione della lira e del flauto, mentre la versione corrente del mito raccontava che egli aveva avuto la lira da Ermes. Ora vediamo la decorazione del frontone, cosa che mancava al Tempio di Hera. Questo era un problema non indifferente, in quanto bisognava cercare di inserire in modo organico, calibrato, una scena figurata all'interno di uno spazio triangolare che imponeva dei limiti spaziali particolari. Il più antico esempio che possediamo di tale decorazione è il frontone del Tempio di Artemide a Corfu, che era l'antica colonia greca di Corinto. Artemide è la sorella gemella di Apollo, chiamata Diana dai Romani. Come gemella di Apollo ne costituisce il corrispettivo femminile. È anche lei armata di arco e frecce con cui uccide uomini e animali o diffonde morbi. E dallo stesso tempo, proprio come Apollo, anche Artemide può guarire e alleviare le sofferenze dei mortali. Era protettrice dei giovani e dei piccoli animali e perciò divenne la dea delle grege e della caccia. Come Apollo, Artemide non ha un compagno ed è la dea vergine per eccellenza, cioè rappresenta la fanciulla non toccata dall'amore. Ma veniamo al frontone di questo tempio. Raffigura una gigantesca medusa nello schema arcaico della cosiddetta corsa in ginocchio, con testa e busto di prospetto e gambe piegate di profilo. Medusa è una delle tre gorgoni o gorgoni, che sono temibili figure femminili, con la testa ricoperta da serpenti invece che da capelli, ali d'oro, mani di brunzo e giganteschi denti. Medusa era l'unica delle tre sorelle ad essere mortale. Secondo la tradizione, all'inizio era una bella ragazza, ma i suoi capelli furono trasformati in serpenti da Atena, in punizione per i suoi amori con Poseidone, avvenuti in uno dei templi dedicati alla stessa Atena. La testa di Medusa divenne così spaventosa da far trasformare in pietra chiunque la vedesse. Infatti l'eroe Perseo, per ucciderla, dovette evitare di guardarla direttamente in faccia, servendosi di uno specchio donato gli da Atena, e così le mozzò la testa. Atena poi collocò il capo mozzato di Medusa al centro del proprio scudo, dove mantenne la sua caratteristica di pietrificare chiunque lo vedesse. Poi fra l'altro, dal sangue di Medusa, nacquero il famoso cavallo alato Pegaso, che era raffigurato qui sul frontone, ma è andato quasi del tutto perduto, e Crisaure, raffigurato anche lui a fianco di Medusa, entrambi figli di Poseidone. La figura della Medusa è stata posta sul frontone di questo tempio perché aveva valore apotropaico, cioè la sua immagine sugli edifici sacri, ben visibile da lontano, aveva la facoltà di allontanare le negatività, proprio perché era il simbolo della morte e del male vinti dall'eroe. Inoltre su questo frontone Medusa è accompagnata da due panteri in posizione araldica, e così la gorgone è vista come la signora degli animali, proprio come Artemide a cui era dedicato questo tempio. Era raffigurata esattamente come da tradizione, con tutti gli attributi e una bocca larga dal ghigno mostruoso, e con la lingua pendente. Dietro la spalla sinistra resta traccia delle ali. Per riempire invece gli spazi più piccoli generati dal triangolo del frontone, gli scultori hanno aggiunto altre figurette, che Giovanni Beccatti descrive come Zeus in lotta contro il gigante a destra, e il Neottolemo che uccide Priamo a sinistra, che simboleggiano rispettivamente la strage della gigantomachia e quella di Troia. Notevole per la raffinatezza compositiva e ornamentale è la cintura che stringe in vita l'abito di Medusa, costituita da due serpenti le cui teste sono araldicamente affrontate. Quindi, nonostante alcune forme, come quella dell'abito di Medusa, siano ancora molto solide e pesanti, e gli scultori alle prime armi con i frontoni ancora faticavano a trovare la composizione perfetta per quel tipo di spazio, abbiamo comunque già da adesso un gusto per i particolari, anche incisi, come nella resa della pelle maculata dei felini, che in questa foto non è molto visibile, e un senso plastico che anima le immagini. Il tutto era, come sempre, arricchito da vivaci colori che sono andati perduti. Altro esempio famoso di decorazione frontonale viene dall'antico tempio di Atena ad Atene, praticamente l'antico Partenone. Su questo frontone erano presenti leoni che abbattono un toro, Eracle contro un demone marino, e questo mostro a tre corpi, soprannominato barba blu, per l'acceso cromatismo delle barbe. Anche qui la disposizione delle figure laterali e la resa delle lunghe code mostrano lo sforzo dello scultore ad adattarsi allo spazio ristretto. La predilezione delle imprese di Eracle di duplice natura, cioè insieme dio ed eroe, è probabilmente tesa all'esaltazione tramite il mito delle imprese marinare promosse dall'Atene di Pisistrato. Pisistrato è il tiranno che prese il potere ad Atene dal 561-60 al 528-27, in un momento di disordini sociali. È ricordato abbastanza positivamente dalla tradizione, anche perché si adoperò per soddisfare gli interessi dei contadini più poveri e degli artigiani. Aristotele lo definisce fortemente democratico.